Dannazione che stralisci C'è stavo Niente non l'ho preso Rasatura perfetta No ma l'ho stralisciato Killdrak Che cavolo Veramente l'ho stralisciato Ma è che Non lo so C'è io con questo mini mi ci trovo male Per questo prima l'avevo scambiato con l'SKS Mi ci trovo male Non so Non so che dirvi C'è l'ho stralisciato proprio Dannazione Che peccato ragazzi C'è quella era proprio C'è era proprio una kill Fatta C'è bastava un altro colpo ovunque Ma anche sul piede ed era morto Invece l'ho stralisciato Con tutto Mamma mia Sono proprio scarso Vabbè dai Mi rifarò Mi rifarò a questa Dai Ci sono Ci rifacciamo con questa Forse Dai Qualcosa di buono sul molo Per cortesia Il vector Vabbè Ballaggia Cesare E Berry l'OMP Vabbè A questo punto prendiamo l'OMP Al posto del vector Dai ci siamo Andiamo alle 7 e 62 Ah non me l'ha ricaricato E Droppa il vector Esteso Questa ce la teniamo Cartucero Shotgun Cartucero 45 Via Prendi 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 No non mi dire che abbiamo solo l'OMP Cioè sul serio Tante cure Ma solo l'OMP Adesso me l'appunto Cesare Grazie Ora me l'appunto Dai un fucile da Ho visto che c'era Il QBZ Però Cioè oramai Abbiamo praticamente raccolto Beh state vedendo la quantità assurda Di kit Del pronto soccorso Che ci sono Veramente Però a me Serve Un altro Un semi fucile da Da cecchino Semi Mi va bene tutto Tra nello sparafagioli Del WSS Quello no Non voglio Anche se col WSS Ne ho vinta una con Dandor Infatti Si è rimasti tutte e due Sorprese E contentissimi E Ok C'era una nave No Però ci dovrebbe essere Un passaggio qua Tipo una mini secca Oh L'ho Droppato qua Qua è un parolone Ciao Doggy Buongiornissimo Ben arrivato Ciao Ciao Gren Grazie mille di essere passato Alla prossima Buona giornata Cioè Non sta Lontanissimo Ma a tempo che arriviamo noi Mi sa che Ci sarà il panico Mi sto portando Dietro il mondo Vero Che cos'è questo Cam Charlie Che Sono carico per The Division 9 minuti Mancano Quindi Proprio tempo Di far questa Guarda Purtroppo Dalla Dalla Beta Non si riuscirà A vedere tantissimo Perché l'unica cosa Che mi preoccupa Tanto è che Stia un pochino Povero di contenuti A lancio Come il primo Il primo A lancio Era un pochino Povero di contenuti Però Lo vedremo Ok Ok Ho letto i comunicati No Non li ho letti I comunicati Che dicono Cioè Ho letto solo Quello che si può fare E quello che non si può fare Cioè So che si Allora So che si può Far lo stream Della Della beta So che si arriva Fino al livello 7 Il dungeon Verrà messo Domani Mi sembra E Basta Mi sa solo quello Cioè Quello che Ho letto io Un'uccisione Con un fucile a pompa Due uccisioni Verrà e distruggi 5 il metti Dei nemici Cioè Stamattina Per scoppiare 4 pneumatici Questa non è difficile Ce la teniamo Per dopo Ce la teniamo Per dopo Va bene ragazzi Allora Io ne approfitto Per prendermi 5 minutini Di pausa E Poi ci proviamo De division Ci vediamo Tra pochissimo Il cavaliere Va